speriamo speriamo che speriamo di partire ok la notifica è arrivata almeno quello lo streaming lo streaming c'è ciao a tutti la voce verifichiamo c'è la voce no ciao a tutti chi c'è ciao sveli sì abbiamo visto già i saluti ciao keili hola joanna hola comasquid joel hallo hola hola comasquid i ratti dove ratti che l'ho visto anche prima prima avevamo un problema con l'audio ragazzi sì before just we have a problem with the audio but now everything works perfectly so che tal todos che tal todos alessandro e jessica ora mi chiamo in la switch e io di Anna perfetto io Anna grazie per informare io Anna se grazie molto così non ci siamo con la cara di pan ogni volta che vediamo a qualcuno nuovo entre comillas alcuni nomi o nuovo allora non ci siamo con la cara di pan non ci siamo con la cara di pan no in la prima no, ora in la seconda a me tampoco Johanna così di chiaro l'Igo di Anna è meglio si non so perché, però asociava l'Igo di Diense a un hombre invece di una mujer non so perché perché dici di ballare che è più di chica no? però non so ah vale vale Anna, perfetto Johanna è il nostro camaleonte anche se Johanna la mi gustava la massa anche se Johanna la mi gustava la massa si, però perché lo abbiamo asociato a ti hola chili in la seconda sto, vale che è lì, claro hello chili adesso voglio imparare a fare anche qui il il come si dice il la regia cioè le registrazioni che mi saliva la parola delle gravazioni si col programma della regia però con questo programma qua che ancora non ha fatto nessuna registrazione ah hi Julian, hallo oh Calamaco ciao Calamaco come stai oh tutto bene ecco ecco lì qui Calamaco e noi come stiamo? stiamo 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 bene si può dire a febbraio ah quasi quasi ma credibilità vuol dire soltanto una vez mi mi arrivano messaggi attenzione messaggi su messaggi io sto male qualsiasi la parola 759 32 29 17 tutto tutti stanno bene oggi unisciti a quello stai male davvero per i denti ancora non è migliorato ma sei andato in scuola alla fine ma no ma come fai nella scuola ma io mi pensavo male nel senso ovviamente fisico sempre influisce ma nel senso di animo animo come si spiega questo sì vabbè ma con il morale non le passa mai bene sì sì questo lo so da ieri è quello il problema tu sai sei andato in scuola o no chi è che mi sta aggiungendo non passa nada l'importante che tenga ma che le adorano che ma che li attacca a me mi interessano oh ioanna tu eres un sol ioanna in due mesi casi la stiamo vivendo crescere hai visto che mona hai entenduto che hai scritto no già esatti non ci va a scuola vale meno in verità meglio penso è perché così almeno può guarire un po meglio il dolore senza lo stress della scuola penso sono contro lavorare andare in scuola quando siamo malati siamo malati veramente dobbiamo prendere la pausa però se siamo malati veramente non non crearci malattie capito per non fare un cazzo due amici ma io non ho visto nessuno iscriversi qui al canale come è possibile due amici ma le dita ce le hai ancora di segura da te in prescrivere ma sta giocando eh cosi due ragazzi come seguire seeking si fino a dalla scuola ma non ho visto le notificazioni uh oh quello hanno scritto qui no oppure in base no vengonoτούeni di canale ma lo che ne ho scritto qui non ne ho capito la notifichia di casa io ne ho no Non. Non. Quindi... Eh? Sei il mio carino. No, 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 no. Vedi Kaylee. Lleviamo il mismo gorro, Kaylee. A che smoloni? Gioca con i piedi. Cosa scrive? Jess scrive con le mani e gioco con i piedi. Perché perde sempre. Non perdo sempre, ma ragazzi. No, Jess. Ah, lui? Ma no! Ma lui non perde sempre. Per me Ratti è bravo, solo che come io è un po' dal livello non tanto avanzato, no? Quanto è Ratti? Ma Ratti, ma anche se fosse di millesimo livello Gioca sempre a Ratti Style, dai. Ratti Style. Ratti, io ci spiattiamo solvente. Cosa te lo posso dire? Oh, ma ci sei? Igo di Ratti? Jess, hai tu il migliore avatar? di tutta la Switch. Eh, chi te l'ha fatto l'avatar? Eh? L'ho detto. Ci siamo divertiti molto facendolo. È il mio avatar. No, no, no. Tu hai il tuo avatar con la tutta la faccia. No, no, no. Io ho la granita. In questa casa, tutti i miei. 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 Italiano macista. E ha perso anche la seconda. Igo di Ioana, tu tenias un loro? Claro, Ioana. Si, si Ioana. Cocco. Si ama. Caleb, Caleb. Eh va bene, ma sono sempre io. Ioana non lo sape. Non puoi avere la foto. Puoi postare un disco. Del resto, un altro. Non si è chiaro. Non si è fico. Ehm. Caleb, di nuovo. Hola. Oh, Caleb. Forse non mi ha quedato chiaro. Caleb, hola. Poi. Povero uomo, cecchinato male. Questo che l'ha detto, secondo te? Non lo so, ma non si era. E' possibile averlo detto. Calamaco. Il latte evaporato. Povero latte. Che pena mi fa. E quando ho letto lui, ti chiederà di più. luuuuuuuaaa. Was sapi? Was meinst du mit dem Brot? Hola, Maremma Buckaiola. Dò, ma non volevi mettere I BOT, per aiutare i moderatori. moderatari moderatiri moderatori vabbè cosa in inglese ho tolto tutte le parolacce in inglese non si possono vabbè ma tu sei un moderatore adesso ti levo da moderatore un secondo e vedi cosa succede non puoi scrivere le parolacce in inglese non lo so Sve non è moderatrice ancora no? no Sve puoi provare a scrivere una mala parola in inglese che tanto le sai basta Ioana io ti odio Ioana non ti voglio più bene non ti chiedo mai ioana me vuoi dove va? sperami io sperami per favore Ioana tiene una covaia che si chiama Candy e una perra che si chiama Becky la perra Becky la conosco abbiamo visto e nel video abbiamo visto la perrita dopo della duccia anche Giulian probabilmente un po' in rancampi perché vogliamo sempre solo un po' il livello perché noi stiamo sempre in un privato non ma come non siamo in un monato in un livello 71 eh 71 oh god 50 Che bebi non sei qui Hallo Inkeling Come stai? Hallo Ink Come stai non vedi perché Solo un po' di giovane Un po' di farlo con la mia stosa, non è vero? Si Che fosse A 30 frame per seconda Eh ma mira Caleb, ti deve essere obiettivo Che ti speras da Kirby? En serio Da giocatori a giocatori E se solo Tiene che essere solo un passatempo della Nintendo Antes di andare a dormire Entiende cose così Quindi perché Tambien ir a gastare In modalità portabile Perché ir a gastare Molto di batteria con 60 frames Se non si vanno a vedere Non si vanno la differenza Tiene che pensare così Per come la vedo io Claro Come giocatore Che al final è quello che importa Se agradecerà più che puoi giocare Medi ore più nel gioco È una platforma 2D Non ha i brilli che ha Splatoon Non ha i brilli che ha Io lo vedo più in i brilli Non lo so Non lo so Come la vera Il 60 frames Si vanno la velocità Talmente come va Però in un platformer Lo 60 frames Lo rende ridicolo Non so Per come la voglia Che povero Ratti Dice oggi compro la mia nonna Vado in pizzeria Non posso mangiare Oh Ratti Fatti fare La pizza Pizza frullata Pizza frullata Con il pomodoro Che vuoi che Che la bevi Con la cannuccia Ma sicuro che in qualche pizzeria Fanno una cosa molle Anche Che puoi mangiare Il pomodoro Il pomodoro Il frullato Gaspaccio Sarai in Spagna Vedi il gaspaccio Gaspaccio No, non troviamo ancora Non lo risponde No, non troviamo ancora Bis al ultimo momento Dicevamo ne parla Dicevamo ne parla Non troviamo Non mi vuoi? Dice io No, non Non c'è Non lo vuoi Dopo quello che ho fatto No Che ho fatto? Mi matava sempre la pizza frullata frullati la pizza non so questo non lo so questo qua questo qua il rossofondo il rossofondo c'è scritto I go die, e gli ha detto che lo sappiamo, che infatti ci sono un paio di giochi di parole, che si può interpretare. Chissà se l'ha matato lì, l'ha matato, non creo, però vale, che esistono, che esistono, che esistono i effetti, perché mi ha chiesto di cui siamo, ho detto che vogliamo aspettare, e mi ha detto che è meglio esistere, perché così possiamo colpire effetti, ma non c'è un problema, gli effetti sono le perc, in italiano, in spagnolo? Alemane. Dile che le perc noi le metteremo uno a uno, che ci interessano a noi. Grazie, grazie, sì sì. È un picchiaduro, in 2D. strutturato in orizzontale, dove sono tutti personaggi famosi dei videogiochi della Nintendo, alcuni della Sega, alcuni di Fire Emblem, Kirby. È bello. A me personalmente piace tanto. Io penso che se sei un fan della Nintendo, capisci che tutti quelli personaggi hanno una storia dietro, e vederli tutti insieme è bello? È bello. Però se magari non lo sai, potresti giudicarlo male. Ma sono già tutti i Pokémon, ci sono molti personaggi. Non so, vedere, che ne so, un Wii Fit, giocare contro un Pokémon è già stranissimo. Oppure vedere Metal Gear, Metal Gear contro Sonic. Come pensi che è di vedere Metal Gear Solid contro Sonic? Dove si possono incontrare questi due personaggi? O Mario contro Luigi? Già solo quello. E dice, errati che lo sta aspettando da quando ha comprato la Switch. E con la mano in grande, non conosci Smash Bros? Sì, che vita brutta che ha fatto, eh, Sve. Ma Svelli neanche ha giocato a Wii U? Ma Svelli secondo me non ha mai giocato neanche sulle quali biglie sulla spiaggia. Svelli è una ragazza che non gioca. E Calamaco scrive bestemmia. Guarda questo schermo, Calamaco. È bello. Questo è bello, eh. Questa è vero. Dì? Perchè? Perchè? Giulia? Cosa? Ma potete... Non potete togliere quel Calamaro lì a sinistra? Perché lo guardi sempre? È una attacca epileptica. È vero? Tutti lo guardano quel Calamaro, eh? È stato messo a posto, spiegato. L'ha fatto da effettivamente, per te notizare. È vero? È vero? È vero? È vero? e abbiamo fatto qualcosa di più a proposito ci fanno tutti cool direi di guardare il centro bene nel centro del schermo tu devi andare in centro del film devi andare a concentrare sempre dove si fa è meglio stanno facendo il show per fare i scioccati come sono i ragazzi assiste Joel invece Joel ha detto ma si è bello il calamaro quello che gira ma il ragno Liga non giochiamo adesso no siamo in troppo Liga non ma in più in più spiego in più spiego come abbiamo detto perché in Liga ci sono troppo magari dopo non fia ora è già da due o tre partite prossima in privata prossima prima partita partita privata prossima partita privata A chi mi sento come si scrive una radio a volte. Oh mio Dio, dove sono rimasta? Sono con la minuto 56, ragazzi, tranquilli. Eh sì, ti ha chiamato Calamaro, infatti, li abbiamo sentiti tutti, ma non è successo niente. No, no, no. Calamaro, come lo chiamavo all'inizio, eh? Guarda che all'inizio lo chiamavo Calamaro, eh? Che non ti credere. Qua si chiama Mako, non si chiama... È vero. Giulian dice che li abbiamo ipnotizzati per darci un like. E che lo smettiamo quello del ragno, che è una fobia. Ah, ok. Ok, ok. Ti lascio me notare, grazie per il like. Prova a dire, guarda, prova a dire tre volte Mako, guarda cosa succede. Allora... Prova a dire tre volte Mako. Mako, Mako, Mako... Vedi? A comando, va. Se tu nomini troppe volte quel nome, esce un diamante. Lolo, ico di cosa? Uè, Lolo, ciao... Il monosillabo. Oh, Lolo monosillabo. Lolo monosillabo, perché... Diciamo che casomai un giorno dimenticarei chi sei, no? Ti vedo scrivendo in chat, ti ricordo subito. E adesso, ragazzi... C'è da dire una cosa molto importante. Chi ha donato? Donato. Bravo Mako, hai donato. È vero. Finito, la modalità, tutti insieme. Ah, no, 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 ma che sto... Adesso, inizia la... Non, non... Adesso, rai giùle, 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 giùle. Ah, però ho detto il potrò pronto sufficiente. Tu non può scrivere a me nisf oppure. Ah, no. Sarg, Nesp... M'ho, no, 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 no. la zarma è una cosa così, no? parla di che la zarma, un po' Andre è questo? ma se la gente non vede la zarma, no? ah, sì, sta bene è inclinata, è notta, non ha angst il prezzo per essere molto bene prezzo, prezzo ma io non ho mai chiesto di esserlo dice Calamaco Calamaco ha rotto le palle basta Calamaco basta abbiamo un po' di bananità povero dai rati tranquillo sicuro che sono gli effetti nel cervello del dolore non ti preoccupare dice che sta delirando meno male almeno scatena si? non c'è nessuno? io credo che le devi scrivere con io perché altrimenti è uguale io ho una cosa che ti passa sì chiaro che ti perdono però che nunca va a passare il mas non hai che splattarmi il mas è entrato nel gioco perché sennò mi fanno infattare un vale? Anna ma sei da questa massa? Ale sentirti dire basta in quel modo mi ha reso tristemente triste chi è? Calamaco ma basta 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 vabbè partiamo così non so cosa dire i miei nomi lassù sì sì non è uno non è uno minchia cos'è? Climb Blitz è Cristo siamo stati un'ora gli Alma eh ora ti fotti anzi handicap match buh Sark Joel Mako hanno già vinto ma che hanno con il busto? non l'ho capito io non capisco questo busto ah ok poverini sembra che li facciamo soffrire do cosa? io ragazzi vi lo giuro adesso leggerò sempre tutto come lo scrivete in spagnolo in italiano in italiano no perché non lo so perché non parlo tanto bene italiano Caleb Donde? Oye a casa chi Caleb? te ha colato così sin avisare no no ah solo è in Climb Blitz no? sì sì vale vale Jolín a volte me da rabbia perché in modalità pro se non ci sono ci sono ci sono sono sì 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 è sempre così però è chiaro se non è uguale è più facile vale vale ok ok grazie e poi tre coronas no no chicos che è passato Svely sì come ti chiamo Svely o Svevi perché io il primo giorno avevo capito che ti chiamavi Svevi ma poi lì c'è scritto Svevi Sve... ah no tu la chiami come vuoi io mi piace Svevi per te non so a me Sveta mi piace però no Svevi va bene uguale tutti chiamano Svely mi sento diversa Crispi ma co eh ma che dici a Ratti vai tranquillo poverino eh sei già abituata quindi Mario Núñez solo ha entrato per salutare e poi si è tornato a andare chiaro noi stiamo parlando solo italiano e anche stiamo parlando un po' però è che solo hai italiani casi chi non hai? non lo so italiani e alemane spagnoli a Johanna che solo dice hola con che mai abbiamo parlato? spera eh stai andando mal? mui mal? no non stai andando mal? boh maco vaffanculo Sebastian è anche solo entrato per salutare vabbè sei Sebastian? e sta giocando con te magari? io momentalmente non vedo nessuno di nessuno ho visto Kalamako ho visto Sark dai ora te ne ammazzo tutti così come vediamo chi c'è c'è Sark ma stai andando qui perfetto è che come solo ho salutato e poi ho detto non ho scritto più io non ho scritto più io sempre presuppongo che si vanno però genial genial nooo Joel mio padre che sia e e The Fox 555 questo qual è? è il originale? è il originale il originale che storia non ci ha salito con questo tema il originale? è un movimento è un movimento è un movimento è un movimento è un fox è un fox è un movimento è un movimento è un movimento io la stima per le mani lo sai che è? è un movimento che poi è anche brava Lavora ha visto con i Worms? Ah si, ha detto che giocava con il cellulare Ah, con il cellulare, con il tablet, con il pc Mancava solo che giocavassi al parco che c'erano i vermi, veramente, che la facessero giocare Perfetto Ok 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 No, no, questo chi è Mako? Sempre Mako, quando io ho la palla, arriva Mako e mi ammazza E io lo aspetto qui a Mako Biguzzi Dintelo a Mako Biguzzi Oh, quanto sei simpatico Allora... Alles good Alles good Salve Abrile Il Duca Come stai? Handicap match Win Mako, 20 kill Dio Duca Adesso Devo dire tre volte Mako, mi sa Tranquillo, tranquillo, Kalev Tu tieni a pensare che... Sì, sì, questo si chiama Handicap Match. Facciamo il mongol gol. Aspettate che c'ho due persone da aggiungere ma non mi hanno aggiunto sul sito, perciò... Chi è? Nemu Cilli. Cilli subito. Cilli sì. Cilli l'accetto subito. Cilli sì. Mira che occhi che tene. Cilli... Si sembrava un mio antico avatar. Adesso no. C'è... Doc, ma non avevi... Avevi? Avevi detto che non usavi più la Switch? Cosa? Ma mai nel mondo ho sentito dire io questo? Io ci tengo che tutti quanti conoscono la vera identità di Jessica. Chicos, ora vi vuoi mostrare la vera identità di Jess. Cosa è? 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 Dove sia tutte le maiuscole? No vabbè. Due volte alla settimana vedo di farle... questa qua. Un pochino... Di nuovo Clan Blitz. Cioè, Mongol Gold. E quelli che saranno fuori sono... Lui... Inchia, Caleb. Oh, Caleb, mi dispiace. Hola, Max. E... Lui. Hai visto, Laura? Ma... E solo per vedere anche una cosa che poi ti spiegherò... Gli atti dei parti. Basta con questa caspiterina di vongole. Crees che è possibile che l'altro... ...dossi e io... ...nos incontriamo nel chat? Io credo che sì. Crees? Se entrai lo sufficiente, sì. Il fox. Vabbè... ...teniamo la chat vocale nel... ...nil Discord, no? Sì. Ah. Io sono sicuro che se entra... ...le voglio dire la stessa cosa. E che? Che tiene un doble, anche. Va bene, Sve. Ci vediamo più tardi. Oh... Ok, Svevi. Ciao, Sve. Vada bene. Vada bene. Bene, vada bene. Non si dice? Vada bene. Sì. Joelle. È scritto come... ...100 milioni di altri. È quella lettera orribile che qualcuno non so perché ragionano. mi perdono. Ma vi perdono. Oh mio Dio. Il senso di diversità. ... Miki. ... È già la seconda vez che lo pone. 803. Ma sì, se io gano, gano solo io. Vale. Eh... Sì, Gabriele. Dite aggiungermi. Se vogliono la mia amicizia devono aggiungermi qui. Ratti... ... 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 non c'è spazio e lo facciamo dice de Fox 555 pero de Fox 73 dime que è una broma non c'è non c'è una broma però qualcosa con 8 c'è l'abbia non c'è l'abbia non c'è l'abbia ci fa piacere Lolo c'è la tastiera ti ama la tastiera nuova ha scritto tipo 5 linee di ha 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 e poi ha scritto disiscrivetevi ma ha 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 ascolta Latti non funziona il verso c'è un veloce fammi il favore mettiti giù riposa e non scrivere 5 linee di ha 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 perché ricordati che sei anche parte integrante con la chiavettina al lato non so i migliori errori avvengono perché li facciamo noi Giovanna invece ti promette che non te lo promette che non te lo metterà grazie Giovanna ma vaffanculo va cioè perché l'hanno messo qua con A hai capito per noi è impossibile sta cosa no stavo chocando a capito cosa stava in parcio chico pa che lo entendais stava il non se non se non se puoi non conseguirli tu entiendes come non imposta tommare il bongol gol per noi che usiamo il controllo pro ah vale entiendo perché hai che facciare movimenti ma non posso aprire questi e mirare con questo tengo una mano sola qui lo so lo so non si provate a jugar con pro controller è vero per questo non consiglio jamás una vongola no io sì però quando sono pequeña la grande no perché tengo che essere una cosa che quando sono pequeña non tengo che essere che tengo che direzionarla poi è star ma ora che mi pare se non mata mal cioè calembe sta mirando a kelly come quella errati invece ha detto che non è riuscito a dormire stanotte ho passato 30 anni senza dormire tranquillo ti abitui prima poi o ti abitui o mori nel sonno la siena ok che non si ok ci che basta utilizzato abbastanza vado a prendermi qualcosa per i denti e fra un po ok rati dai sarà meglio detto che migliora rifaccio la stanza i do another room maybe the ah no la 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 marco c'è sì questo mickey chiaro mickey no fox fox perché è già stato fuori una volta allora ho toccato a lui ma bo mi sacrifico io per la la e invece dopo subito dopo ci sarà sicuramente lui ana ah sì vamos a ammirare un po juntos visto che non me puoi matare stas conmigo e dopo mi può matare mi mi piace questo canale ho grande noi divertiamo e voi anche perfetto Laura Capito. Laura, hai visto come ha detto in spagnolo, in italiano? Oh Gott, come si diceva in italiano? E poi non si diceva in tedesco. Come si diceva? Come si diceva? Oh mio Gott, non si diceva in italiano, Laura. Tutto bene, non so come si diceva. I sacrificio myself for a hair. That's it, ha detto. Ho visto. Grazie, italiani. Non è, non è, non è, non è... Sabe cosa cosa cosa? Que verbo, sacrificio non ha la misma raiz latina, in alemane, come lo tiene il inglese. Quindi non so, quale sale verbo? Non mi sale. Mahtnix, ok. A chi va a gravare? A naii. A naii. Vamo a, vamo a mirare. Vamo a, vamo a, vamo a mirare, perché siamo molte. Vamo a, vamo a, vamo a, vamo a poner, l... e gli dico un segreto dai Duca sorprendici stupiscici io mi voglio infatare se non mi matas non mi tiene che matare se giocamo juntos ok Johanna se giocamo separati ti hanno che matare perché? è un buon pac qual è il mio? il sinistro che è detto? quel Niccolò che è qui è stato che è detto? che era il sinistro però bene anche quel Niccolò che ha chiesto l'amicizia era un mio secondo anche a uno oh grazie vai allora devi fare iscrivere tuo padre al canale o un fratello perché qua adesso dobbiamo iniziare a associare ogni persona tra un po' arriviamo a 250 dobbiamo iniziare a cancellare già bene bene e cancelleremo cancelleremo tutte le persone che ci stanno sul culo prima di tutti gli altri quindi via Mako via Miki via Moki via Meku sicuro i primi che se ne vanno promettito comandante no Lolo te te vi servi ancora ti useranno come portabandiera hai visto quei deficientini che stavano facendo squid party non ho fratelli ma questo non vuol dire che sono un figlio unico neanche io ho animali ma per questo non vuol dire che hanno un pappagallo che sta cagando ragazzi voilà cocco appena cagato chicos cocco hai c'ho la cacca in questo momento il mio ammirato mi ha ammirato e hai c'ho un fra hai cacato bravo monumentali quindi nuova stanza no fratelli ma questo non vuol dire che sono un figlio unico la stessa cosa ti ho detto per pagarlo voilà altro giro altra corsa qualcuno aspetterà qualcuno giocherà che è il fox555 è un buon nome o talvez me lo cambia ma chi è? il fox555 bellissimo aspetta sai quel mio problema che non ho messo che se ne doveva andare a cazzo quando finiva te ne vai già Michele dove vai Michele? hai fatto una parola va a giocare a Minecraft lui vuoi far crederci ok adesso guarda adesso ci fanno cerchiamo di risate guarda il mio avatar è veramente bellissimo è qualcosa di se adesso andiamo a vedere quante ore ha giocato a Minecraft dove è Michele? già sei andato già spento io voglio giocare una cosa nera con arancione eccolo qua guarda eh ora in Minecraft no non ho ancora giocato in Minecraft e cos'è che gioca tanto? niente non lo sta giocando bastardo ci volevi lasciare oddio quanta gente questa stranza facciamo questo vale le fox mischiamo l'usca questo adios io voglio giocare e anche ce l'ho a Michi vai via Michi? allora eh già non so non dici più però penso di sì eh io metterei logicamente la kellina poi troll troll e ah è cosa questo? è cosa no non lo so non è Latius Latius no? no è 17 Latius si come chi è? eh niente svei in poche parole è già è caduta è caduta e l'ho portata all'ospedale e all'ospedale gli hanno è stata un'operazione lunghissima ma dai gli hanno tolto il culo perché era caduta sul culo ha buttato il culo c'era un culo che eravamo col fiera allora avevo detto boh visto che è così lo facciamo togliere e niente e niente no c'era un ragno inserito dio caramaco bene ragazzi benvenuti a tutti quanti è una plazza virtuale a chi è? Fox grazie guarda quanto ho giocato io Splatoon 15 minuti 15 minuti caramaco è segnato c'era un ragazza laura è una laura laura è una laura non so via che scrivere doc 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 doctorius doctor doctorius c'è notorious notorious big e c'è doctorius big ecco dopo viantastic abbiamo appena inventato doctorius subito dopo viantastic doctorius doc 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 cantalo dai aspetta balliamo balliamo doc 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 come continui no lauca granate eh ragazzi la malattia malattia è grave non ballerò mai più I don't dance with nobody non no aspetta aspetta this one aspetta 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 ora la banno la banno ma dice che non mi vai a matar, nonca banala bannala, ora che non può contestare lo! non lo vedi abbiamo qui venuto spiemi normale ovo un tanzo via? io spiemi normal avevo 다시 come tandze via e se l'ultima è normale ovo balliamo? non si l'ultima è normale perché non si vedamo shh non lo vedi E questo è un attimo di difficenza Sì, ragazzi Iniziamo a giocare Nella prossima round Ok, avete vinto un uomo Non è freddo Ma come l'ha scritto? Volevo leggere Doc, doc, doc Ma doc, main Non slayate Mira Johanna lo che ti scrive Ah boh 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 Non l'avevo intendito io Johanna Perdona, perdona Io te lo ho intendito, sì Come dice Eh io? Ah, vale, vale Pertanto che stavo stavando il mezzo Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale No Mi conformo, mi conformo Quindi Io, no, io aún tengo che Aún stai digerendo Quindi io e Joel Un secondo Joel Tiene che sedere il posto E facciamo giocare Estos contro Estos contro Estos No, 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 no No, no, no Indietro, 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 chicos Back, back We go back Andicap match Not valid No, 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 no Vittorius No, no No, no, no Alle drin? Hallo Oktoboy 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 Ok, voilà, Milo, ciao Milo, sapevamo che arrivavi presto. Quando avrai un fragoio a mille decibel, giù dal cielo pioverà Milo, gamm. Veloce il conduttore, non dal lampo, io sto in montande e teniamo solamente 10 gradi. Il pox, hai cambiato il nome? Ora è il pox, c'è il pox. Oh, il pox, il pox, il pox. Sì. Non riesco a dormire, non ho dormito stanotte, e questo già lo sapevamo, ma io mi sa che stanno andando troppo avanti. E questo è il mio regno contatore. Cosa sta succedendo? E questo sta attualizzando tutto. Sì, 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 sì. Si sta attualizzando tutto. Come mi piace quando mi hai parlato così. Fa, 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 fa. Calev non separaron, il estino fuori. Ah, tu rei cantador. Oh, God, was è questo per una epidemia che tutti si tratta da con la salute? Epidemia. O che si tratta da con la salute? Siamo bene. O che si tratta da con la salute? Siamo bene. O che si tratta da con la salute? O che si tratta? Ci vediamo. Ci vediamo. Oh, guarda. Molto bene, grazie Fox. Bisogna. Mi bello il mediano, non mi piace. Perché non è morto? Qui porto le sci. Sì, partono le sci. Madonna, madonna di... Che sono sci. Della contravvenzione svizzera. Ma che sono sci? Oh, non lo so. Che cazzo sono le sci? Ma dimmi non lo so. Si sembra che sono... Ma Gabriele dice tante di quelle cose... Va, Calamaco, veramente ti sta troppo bene. Io odio Calamaco. Ma... Qui partono le navi. Ah. Oh, Gesù mio. Le navi. Che navi? Le pecore e le navi. Le pecore e le navi. Io sto male adesso. Non capisco questa cosa. Inizio a sentirmi vecchio per queste battute. Una volta dicevamo delle pecore altre cose. Oh, basta. Devo mettere un'altra arma. Ho sbagliato. Colpa dell'arma. Colpa dell'arma. Colpa dell'arma. Come stai dicendo in inglese? Abbiamo preso cazzo. Che vuol dire... Abbiamo preso un gatto. Abbiamo preso cazzo. The cazzo is in the fridge. C'è il cazzo freddo. C'è il gatto freddo, perdona. C'è il gatto? Oh, dai. Devo cambiare arma. E poi c'è anche... In the face of the cats. In the face of the cats. alla faccia del gatto torre mobile dove è andato Joel? no Joel sta qui? Joel, dove sei? c'è un messaggio dove? Joel Game si, stiamo parlando con Laura Laura un'altra un'altra d'affanculo Handicap Match mamma mia di nuovo Handicap hoi mi quedare hasta las 23.30 ole Johanna ole e che passa? perché? 23.30 alle 23.29 no tu esperas hai 30 per apagar io hoi hoi sicuramente lo sai non è questo lo sai lo sai lo sai sono una ragazza e un'altra una donna oi 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 Laura solo una ragazza e in qualche momento costa vita una donna ma perché le ha detto lo altro che si è cambiato di Sessence Platoon e quindi le ha detto io sono una ragazza e non so perché l'altro l'ha risposto ma questo non è possibile l'arma l'arma Laura è una piccola già si vede la piccola la piccola Laura con i capelli sembra come no? con la cura con la precisione con la precisione quindi aspettiamo questi ultimi sei anni Laura e ti inviteremo a bere un caffè a Barcellona Kaley tiene il disco no Kaley non tiene si tiene il disco Kaley no lo tiene come no? no ma come no già Kaley? no nel disco non lo tiene è mentira Kaleb io la tengo come amica credo che non quiere tenerte come amico credo che è questa è la verità oh Edgar ma perché edgar è sempre qui ho mi sono mi sono mi sono mi sono mi sono di 2 ore ora mi sono mi sono prifiche come il resto del feste qui? il feste vall Io sono sempre muro e schlavo sempre solo un po' di tempo. È fatta... È fatta... È fatta di sì. È fatta di sì. È fatta di sì. Quindi... Ma'anana come si cumple mia madre, non vado a l'ho. E oggi è stato, Johanna? Ma'anana... Ma'anana... Oddio! Ma'anana... Ma'anana vamo a cambiare il server di Discord, chicos. Ma'anana... Ma'anana... Ma'anana vamo a cambiare il server di Discord, perché Johanna ha decidito... Vale, va bene, Marco. Tanto stasera non ci siamo noi, perciò meglio ancora. Ci vediamo stasera, grazie, ciao. È stato un piacere averti visto. No, ma veramente è stato un piacere che sei stato qua tanto tempo nella live. I bacini a Calamaco. Ciao, Cala. Mandiamo tutti i bacini a Calamaco. Wow, wow, guarda che team. Mira che team che tengo. Io, Caleb, Kelly, Laura. Laura. Laura, Laura, aiuto. Joel, sei sicura che è una Dathwaida masca, o che è una schweißmasca? E' una schweißmasca. Ioana e anche Kelly, se lo chiede in strada ora. Allora, Kelly... Quali sono i nostri hobby, a parte di dormire e giocare? Mi piace molto... In che lingua? Laura. Mi piace tanto respirare. E' un po' di respirare e bere acqua fresca. E' un po' di acqua fresca. E' un po' di acqua fresca. E tutto il resto, non lo so, faccio tutto, perciò quello che posso fare. Quello che possiamo fare, lo facciamo. Non siamo razzisti, digglielo. E' vero. Non devi essere razzista, perché sennò per la fine scegli un hobby solo, scegli solo quello, fai solo quello. In realtà siamo più flessibili, siamo non so tight. Ciao, Carla. Un applauso. A qui. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Carla. Ciao, Carla. Ciao, Carla. Ciao, Carla. Ciao, Carla! Ciao, Carla. Ciao, Carla! Ciao, Carla. Ciao, Carla. Rhytmen. Doc küsst das Mikrofon. Echt? Hört man das komisch? Achso, ja. Das hat doch für einen Spieler von hier gemacht. Cosa? Dicet Doc sta bacchando il Mikrofono a Yuto, Dicet Vesto. Si, ja. Joel. So, I am a fetichist of the microphone. Fetich, microphone. I like my microphone. Ja, ja. Ja, vorremmos a star juntos. Ja, Caleb. Caleb e Kaylee. Eskime, ensima con la K. Los dos. Mas contentos? Cosa dici, Joel? Kern in off my warm streamings. Si possiamo di nuovo streamare warmings. Questo lo potevi capire, eh? Tu anche, guarda. Si leggevi un po', lo capivi. No, io pensavo che era qualcosa riferito a qualcosa che semmai lui aveva il gioco e voleva streamare. Insieme a words. Il kön seria come il can, vale? Il ia, il you. Normal, di nuovo. Can, you, I, normal, di nuovo. Eh, la risposta è, scusate, dopo questa lezione di tedesco. Si, in qualche punto, no? Certo punto, fichiamo un stream seguro. Più tardi, sì. Se notte anche magari, no? Handicap match. Ja, ma se a fien fa venne, dobbiamo streamare, sicuramente. Sì, sicuramente. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ora mismo, vuoi installare il Discord. Ma si, magnana, magnana, cambiiamo il server, Johanna. Caleb, ja, me dice, Caleb, chiede cambiare il server, perché dice, ora viene Johanna, mi ha inviato un mensaje. Yona dice, ora viene Johanna. Cambiamo il server. allora tu lo sai che sarebbe lo che manda qui mira se io scrivo non tengo la clave come buoni in italia dice la mia casa ha odore di pomodori mozzarella insalata sto cazzo dove vive perché noi in italia abbiamo le mozzarelle sui mobili non sappiamo che cazzo fare mettiamo le mozzarelle sui mobili chiaro entro in italia sono gli alberi di pomodori non lo sapevi no che cazzo noi non usiamo i cassetti di cassetti mettiamo la pasta la pasta aperta la mia cosa sia ma non sta più comoda hai capito oh my god weißt du cosa è che la mia madre è la mattina no 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 se limpa la cara con la mozzarella perché in italia è suzanzia lui è e si deve lavarti a la piè in il tomate nel tomate con il basilico perché il basilico è quanto ti dà il tuo tocco Mi lo? Mi lo? Mi lo? Ah, e dopo di questo attacco di risa, ragazzi, mi ha passato, grazie, mi ha passato bene. Mi lo? Duca? Duca, Duca ti ha toccato, come si dice? Ti ha toccato, ti ha toccato, ti ha toccato a te. Tocca a te. Eh, Laura, e tu questa mattina ti sei bevuta il frullato di Wüstel? No? Non si fanno i frullati di Wüstel? Che schifo, dai. Che schifo. Dice, no, quello no, però la pizza sotto il letto persino è il caso. Sì, per tenere la calda. Per tenere la calda. Noi italiani abbiamo... Chiaro? Chiaro. Le lasagne le mettiamo nelle scarpe. No? Abbiamo scarpe a forma di lasagna. Per tenere quel tocco... Obligato. Diggialo ai tuoi amici tedeschi come siamo abituati. Una sacca di lasagna ci vedi su. Metti il piede nella lasagna. Dobriere, non sei triste. Io non sto giocando neanche. Abbiamo sostituito il piede con i mandolini. Anche dilliche. Quello è stato fondamentale. Il mandolino. Il mandolino, quello personale. Pizza e mandolino, più spaghetti. L'italiano sono spaghetti, pizza e mandolino. Non lo sapevi? Meno male che almeno il mandolino, già l'abbiamo perso. Che significa in Italia? In Italia? Al supermercato, dove si parla è l'italiano? Dice Joel. Che am minimo sempre dieci pizze in il frigo italiano. No, noi al frigo abbiamo direttamente il pizzaiolo. hai un'abitudine, sono abitudini molto bene, molto bene, è chiaro possiamo fare i comici veramente quando l'italiano inizia a perdere i capelli si mette gli spaghetti in testo senza pizza, senza me qui c'è anche pizza qui c'è molto comico perché tutti hanno toccato pizza e pensi oh god, tu anche pizza? tu anche? tu anche? tutti hanno toccato pizza ma è un samstag? samsung samstag io direi samsung? che è samstag? samstag no, non puoi sapere hashtag è facile hashtag samstag laura io chiamo laura quando non so cosa fare laura ci sono italiani che si incazzano contro il cibo americano che cibo mangi? ma perché l'americano mangia? eh infatti l'americano mangia iniziamo a stabilire quello, dai ah no ma erano in 4 eravamo 4 contro 4 jessica ah è stato tu simply ok good game ah contro il cibo tedesco ma perché? contro il tedesco good game simply simply match zona splat otra vez madre mia duca dentro e quello che sta fuori è uuuu tu laura minchia laura edgar edgar no ma perché? no chicos ma chi sei? ma chi sei in serio? no è stato l'errore mio male male la 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 però ero a morte o nuove? un po' di allenamento comunque edgar ti dice è in inglese perché tu così tu lo leggi anche che che è bello che tu te ne ridi sul senso di scherzi italiani perché alcuni tipi italiani sono molto molto tristi quando le dici le fai uno scherzo così è ma chiaro amica è ovvio siamo visti solo per quello ripeto però io ci rido sopra ah a nachteruva Valls è stato absurdo ma ma non 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 ma non non in realtà non non vabbè ma vabbè ma vabbè non ma ma riamo finché non cambia colore mongol gol perché passano in sta cosa sì io non mi do cuenta che è una persona mas o una meno caprile ma non mi hai risposto la domanda perché cosa c'è con il cibo tedesco tranquillo che non lo traduzco in tedesco se non vuoi guarda uno e meno adesso chicos che passa però perché spaghetti pizza pizza spaghetti spaghetti mamma mia vaffanculo c'è anche vaffanculo edgar you have to learn vaffan si vaffanculo uno e meno uno due che cos'è vaffanculo come dire vattene a prendere nel culo non lo so julienne è un modo di dire questo è un'idea di vedere che il pepe si può dire in tedesco di forma molto elegante vai di là da dove cresce il pepe perché il pepe non cresce come cresce la pianta sono del pepe cresce siete troppo bravi bravissimi ok è normale che c'è laura che viene sul morale della gente no laura stava cercando cibo no no laura è anche solo qui qui questa gente è qui solo perché c'è laura ma questa gente è la prima qua di laura hai visto? qui le confermo che stanno qui per laura però se ne sei rimandato oh ma fai due palovitas adesso mi fa un butto di rumore e lo sai che cazzo ce ne frega a noi? è che dovemo spegnere il microfono se non partiscano non posso spegnere eh chicos si fanno dopo no aspetta faccio il bagno ahahah abbiamo bisogno del popcorno abbiamo bisogno del popcorno popcorno Laura bufu Caleb bufu no no chips ehm questo è ehm ehm pumpkin seeds pumpkin seeds bufu bufu io non posso fare adesso per la metà se in serio no con molto per vino molto parla julian io non posso fare adesso per la metà se non no il Per noi c'è Salat per la fine. Nooo! Quindi che puoi riechire il Salat? E che ho già coccato? No? Dice che... Dice che mangiare un Salat per la fine. Dice che puoi riechire il Salat che non si cucina. Andiamo! Come fai? All'orario che stanno cucinando tra virgolette l'insalata. Non lo capisco. Lei sapeva prima di saperlo che c'era l'ora di insalata in casa. Ok. Anche io quando c'è faccio l'insalata. Si senti dopo. Ah, è ora si è pronto. Nooo! Che mi ha amazzato? Mi lo bastardo! Nooo! Nooo! Ma inizia a chiedere che modalità vorrebbero fare. Alla prossima? Si. In inglese? In armonia? In inglese, in inglese. In inglese. In che modo vuoi giocare la prossima round? E chiedi se c'è qualcuno che vuole entrare perché io non so. E c'è qualcuno che sta cercando di aspettare ad entrare? Io non so come facciamo andare queste altre persone che alla fine ci visualizzano. Siamo sempre in dieci. Boh. Non me lo creo. Popcorn! Popcorn! Ok. Oh, ma scotch? Credo che studiando. Credo che hai scritto un disco o tanto. Si? Non l'ho visto. Una cosa, lo del disco che è che pone da dove pone do you have an invite? Perchè. Allora... Ioana. Ioana. Ioana, il discord non ti hai che pone nada. Descargalo, hazi l'account e poi va nella descrizione del video qui, le lasse su discord e le lasse connetta al server. Come servizio. No, Edgar. Tu hai già chiesto. Spanio ha la stessa stessa. Spanio ha la stessa 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 stessa. Ehi. Oh, Robin. Hello. How are you? Ah, Robin, hallo. How are you? Ah, come va? un'altra volta. Cosa delle ore, cosa delle ore, perché mi pone do you have antes in white, però che pongo? Perché devo ponere il link nostro, no? Sì, però io puoi dire tranquillamente, puoi portare qui nella descrizione del link, e via sta. Non ti deixi cliccando, in il link, la descrizione. Non me lo creo. you have antes invito lo sono castigliato non lo so no hola hola qualche bella eravamo noi in handicap buona abbiamo bisogno di essere ho bisogno di essere bisogno di essere bisogno di essere bisogno di essere una lingua tagliamo la lingua ingolliamo la lingua oh mio dio in tedesco vuol dire stare zitto no, non dobbiamo stare zitti dalle l'unico botone che ha io no, è azul, credo Caleb, la soluzione pratica di Caleb non volevo rire dalle a tutto lo che si muove io amo e ora per buscare che devi fare te lo dico altra vez, io no, espera faccio prima se la si, mira nella descrizione nella descrizione del video ahi, sta scritto Discord, mira te lo invia una scheda verdata, è solo un bottone questo, anche io Anna vale vale allora, guarda ora, guarda 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 Un quiz? Alla faccia del quiz. Ma in che senso? Perché non vai a prendere il caricatore, porfa? Di? Nel mobile. Di là? Nel mio non carica con questo. Infatti tengo che buscare poi un adattatore? Wow. Vale che è lì. E scusami, alla prossima. Se puoi dedicare il libro, se abbiamo molte persone, vale? Te lo direi, va tranquilla. Tranquilla, mira, mira. Tanto... Il canale ancora è nella mano di noi. Vale. Sì, insomma, poi è un dia chill. Chill, sì. Tranquillo. Dai, mira che non ti ho notato. Arms. Wow. Arms, vorrei provarlo. Io voglio giocare a Worms, tio. Mi diverto. Però non ti ho amato di amici. Sì, insomma, Johanna, se tu entras nel server e te espera, ahi, ahi siamo tutti. E poi ti aggiungo, tranquilla. Sì. Sì, sì. Corretto, Kelly. Perché credo che deve passare 5 minuti dalla tua descrizione, basta che puoi entrare in mi server. L'ho posto come lei, è un trecomiglia. E questo è lo quiz, Gabriele. Popcorn, wir wollen Popcorn, aber ich kann es nicht machen, weil die Maschine ist zu laut. Popcorn, Popcorn, Popcorn. Später, später. Später, später. Später, la oja. E se la corsa, adesso ci sono ancora di più di più. Ok, Wissam, grazie per passarti. Oh, Wissam. Ok, ok. Sì, è pronto. Sì, è pronto. Buon lavoro. Tutto va bene, preparate. Laucca! Tu dovresti farlo! Pup! 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 Reaction! Chuar! Milo diocca diocca! Pup! 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 Lai, pup! aresana! Pup! a me piacerebbe mangiare come fanno i youtuber dire a ognuno di loro di inviarmi delle caramelle cosa così da mangiare no? so che lì devi mettere la faccia io la mia faccia non la voglio mettere Laura dice Doc, was lo's? tu e ma Laura? che significa Doc, cosa succede? tu sempre Laura eh Laura io ho classe nel scegliere le vere donne o è portato o non è portato credo io non so come da due questo vedi, è per quello bene in me io posso non mi versare cosa mi dice mi dice ah tu avevi un ognuno di stile in questo modo tu avevi una classe oggi come a presto enti e consiglia sempre c'è qualche età deve incontrare sempre desia che stava una mochetta che si vede le mani la vede via a sei anni in paese di chi è? in paese di chi è? in lo degli altri giocatori laura poi mi ammazza e mi speed bag no? comunque sono una droga le pipa se? io voglio oire questa risposta di lei cosa? perché Giovanna dice che dia è in tuo paese? in mio paese è martes e è febrero io mi piace come... guarda si pensa che siamo, io che sai? no, però si parliamo di barcelona quanti pipa si possono comere prima di morire? io credo che abbiamo che acabare il paese è vero? sì quindi andiamo sono demasiate pocate per comere in un altro momento oi ragazzi, avete bevito o no l'acqua? molto importante si dice medio litro per ora di gioco no, se juegas 5 horas mueres igual muere di acqua ahogato no, te podes morir per beber demasiada acqua a volte faccio lo stupido a volte faccio lo stupido bevo calciaca con caffè na 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 che hai lì? dimmi tu quando hai terminato di mirare il discord eh? che cosa è bello? 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 il stream Joel, Milo 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 non si è fatto ancora niente fuori do what you can't discord we can't questa no che hai detto? ah, che domani è la prima ora libera chi? ah, non so cosa cosa stanno scrivendo? ah, niente di di vanno a cercare di parlare por la noce hablamos por il discord dicord accettare accettare che sto nerviosa no, non ci vediamo super joel cool ma non frissi un palco che bello non, non, non non, non non, non 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 no, non 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 quando va? due ore non non so devo guardare lì mi sa che ero 5, no? no mi sa che era più tardi si? non sa che sia no no io dò che amici siamo gli unici maschi in game ma che dici? ma ma eh tu devi capire che molta gente non sono anche se non maschi si mettono una femmina quindi non puoi giudicare per questo mi sa non c'è c'è ma c'è 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 abbiamo un clan di patate in poche parole e tu me insegnaste loro e io la cobaya, cosa è la cobaya? un suo animale, che cos'è? tipo un cerdito un cerdito del mar, un cerdito del mar, che cazzo è un cerdito del mar? è che è una traduzione in alemane, non so perché parla, però si chiama cerdito del mar, in spagnolo si chiama guinea pig, sono come hamsters enormi e peludi i cavi del cincillà? non tanto esotico, i porcelli d'india? si, quelli io sono allergico a porcelli d'india, lillo? ah si? no anche a travesse della foto, no? si, no lo posso, lillo? lo dirai tu? non sai come si dice? non posso, sono allergico hai capito? il cerdito del mar hai visto che viene non siete da soli, tranquillo io me la bacallare lullo il cerdito del mar, ti ha gustado il cale? è che mira che in alemanza è un cerdito, che significa cerdito perché è in diminutivo e delante del mar, che è il mar io credo che, come qui è di india, è un sobrenombre, per non dire india, no? per non essere un racista è un po' di mar 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 hai visto Laura come saltava? in giro è atletica anche voglio che finiscano queste cose rifaccio la stanza, tu muoviti eh do che è un cinese Michele muoviti eh, per favore codice, difficilissimo che ho passato con Kayleigh? cosa è successo? la ora va a fare ma pure per aver guardato il discorso, non sia che e vanno la ora non Michele c'è si si è vero è è alla 5 e media basta basta si quindi me lo faccio fuori io perfetto non siamo mica gli americani qui stanno dicendo che mi unisco a voi chi? la uva in che senso? a giocare giocare io voglio giocare con te io mi voglio legger più Laura oh mio che dici? che dici? che fascia Laura big hands ah io spiego credo una runde con lui io la voglio anche Michele ma come non gioco non la prenderò male in la vita mi sa cosa? la maschera di Salmonron c'è la metto no quello che farò è quando tutti la vedete la ordinerò e spero che si possa ordinare mi dirà sicuramente di no sono triste per una sera una settimana però che bella mi piace così tanto la maschera di salatrice sì c'è una migliore non so se l'hai vista quale? che è la prima nome quella mh ma bianca a me non c'è più quella la visiera così devo insegnarmelo ah mi sa che sì bella come il cappello di Miro Sara Sara salve salve Sara salve Sara mmm saluta Sara ciao Sara hola Sara 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 Zara dal nome è bello mi piace già perché Sara Zara Zara io uso la mica che si chiama Zara mh che significa CPT capito 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 e perché potrebbe dirlo? boh Sara Zara 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 Rara non parla? mi dice niente no 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 Sara Sara vieneste a sentirmi? Sara Sara hola 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 niente niente eh no che è? Miki non seguo assolutamente nessun canale di giochi chi è che c'è? questo è una faker Miki? Miki Ma una si è c'è... questo lo conosciamo Miki aspetta questo Miki Ciccio Gamer segue ah quelli sono... madonna sono di youtuber italiani ho Miki ma madonna Non so dove sono arrivata qua, ma come si esce? Esci di qua, questo non è vero. Ratti, non mi chiede fermare. Stai meglio. Vabbè. Così significa letteralmente il rieccomi. Eccomi di nuovo qui. Ma non è una brevettura. Eh? Non è una breviazione. No. Questo per ragazzi. Buona l'acqua. Acqua, 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 bevete acqua ragazzi, acqua, 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 water, 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 water. Un'ora e 46. Un'ora e un'ora. Prossimo partito. Ciao Sara. Di nuovo. Vuoi ammirarti. Oh Miki, grazie a te la tua squadra ha vinto eh. Ah no, scusa, scusa, ha perso. Come stai Sara? Ciao. Ciao Nintendo. Ciao Nintendo. Hai perduto la tua squadra con ARMY, eh? Sì. Eh? Sì. Lo abbiamo fatto. ARMY era troppo divertente. Sì. 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 Ho una nuova moto che fa Sì. Sì. Quando finiamo lo stream? Lo chiede? Laura. Che domanda scontata? Presumazione va a fare la scena e vuole sapere per sapere si fa in fretta una memoria. Ma dici di mandato un messaggio in cui scrivete sulle cose? Un discurso? Non abbiamo mai orari. Quindi, passiamo a vedere se vorni al Nelazzo che vi ciamo lavorare. Gli compito di noi. La prima volta che si noi le faccio collate. Sì. Noi. Sì. Noi, sì, sì. Noi, sì, siamo vorni. Sì. Tranchi Michele, non c'è problema, alcuno, hai preso la maschera comunque, non ho avuto tempo. Siamo we knew that you were playing arms because we were observing you in close! Yes, wiru! No man, here we were streaming and while we were streaming, it appeared a notification and Matt is playing. Look, watch, look, like future. Sara ma sappiamo dire qualcos'altro oltre a ciao o ci siamo limitati al buon classico vecchio ciao perché anche cocco sa dire ciao parlaci Sara dici esterna se Caleb parla con Katie antes di parlare conmigo mi puoi enfadare ma si tanto che chiedo che Caleb se chieda il nome di Iodi solo per l'aserto intenderlo se solo Kelly mi dice ah ho parlato con Caleb la sequenza te lo viene ho metto il cellulare sotto carica e non vi potrò guardare ma intanto gioco ok che ne dite si si l'importante che giochi Michele si è sicuro che dovresti noi anche diciamo ogni volta che stiamo qui che stiamo qui Johanna mi dà un'autostima mi fa aumentare l'autostima che è questa bambina in me la tua è già altissima no? te la fa saldare per i uccelli ancora di più Johanna ti doi il titolo solo per il titolo te lo curo ho una nuova auto che fa scu 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 eccolo eccola Kelly perfetto Kelly ora ti pondrai come Iodi member e puoi lasciare la cosa corretta disfrutta vale hai entendito Kelly? mira Johanna è meno difficile di quello che pare io al principio anche me liava un montone però tu piensa che allì sta tutto classificato come se fosse un foro in verità con differenti temi e ogni tema serve per una cosa uno è per parlare con la voce l'altro è per scrivere per esempio sui dati come una mini presentazione l'altro è per... miralo bene per esempio il primo dove sta tra i chat games lo vedi? ma perché? perché passa questo? mira chicos guys vai start start stiamo usando il Discord ma la ruota quando la fate? chi vuole la ruota? Michele Michele la facciamo dopo stiamo giocando in velocità sai? vuole la ruota? ah Shubi hallo tranquillo Rocco la ruota è solo per Michele ok 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 Allì c'è il primo chat, che è il più normale, diciamo. E poi ti accettiamo, Johanna, che abbiamo il mòbil vicino, dopo il stream. Che lo accettiamo. Ah, tu puoi? Dila. Ah, espera, che lo puoi fare dal computer. Non è entrato a nessun lato. Escrive in alcun sito, Johanna. Ma non sta nel server, Johanna. Non? Non è entrato nel server. Dile di apretarlo un'altra volta. Aprieta un'altra volta il botone, Johanna, che ti hanno detto prima, por fin. Come ponete il fondo? Con molto amore. Si. Che lo chiede? De Fox. Ratti l'ha fatto il video. Si, no? Ratti l'ha fatto il video, no? Non l'ha fatto ancora? Ci l'ho lasciato io. Perché? Perché non... Perché si è disconnesso due volte. Ah. No. So che anche io ti busano mai... Ma questa... No. Cosa sono? Ma la Johanna? Che tal? Ti è funzionato? Torre Mobio, troverai. No. 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 Ti vergogna. Ti vergogna di farvi un video? Eh ma... Anche io dovrei avermi 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 un video, no? Pensi? Ma tu davvero devi pervigliarti? Non sto scherzando Che bravo, è bello sei È bello Che bravo, è bello papino Tu mangi a me Ok, sono sicuro che dopo vado a fare Salmon Run Vai a fare Salmon Run Io non accetta, porfì Non ti olvides del Splatoon Sì, ora non tiene che mirare il disco, te io ho no Salmon Doc, mi fa così, è così Ma sai, senti? Un cornuto di forza No! Mi sa che in tedesco non ha quel significato tanto Grazie, ma mi dai del cornuto porzuto? No, è più come You Rock, sai? Ah, vale Ioana e io parlando per Discord, Ioana e Kelly Ioana Mirai che ti metti qua fuori dal prossimo partito, eh? Ah sì, parla solo sul Discord, eh? Ti stai mirando, Ioana Non ha partito Non hai impiassato il tuo partito, eh? Se mi fanno un video dove reagiscono mentre gioco, io mi vergogno, ma se mi vedono come sono nella vita reale, lì sì che mi vergogno Giusto, giusto, bravissimo Stesso raggiamento, penso Bravo Io ti dico che facciamo ridere Ma che te ne frega Ma poi mica sei tu E mica siamo tanti importanti nel mondo come per prenderci così tanto in... Ma mica poi stiamo mettendo la nostra faccia E chi può... Giudicare Kelly che sta giocando Non so, sì O Ioana che ha appena impiassato la cucarola E poi quelli che giudicano la gente Non vale neanche la pena pensarci perché tanto non saranno mai amici nostri, quindi... Vaffanculo Vaffanculo Alle getötet Ok, Joe, grazie che tu ci hai contato Hai detto, come siete tutti? Ma noi siamo impegnati a parlare, dì... No... E adesso tu dà No, questo no Devo cambiare arma Mi gustò il perno che puso Kelly Oì, vabbiamo a cambiare l'arma Io credo che non tiene mucha potenza questa All'altro 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 Che cosa ho quando facciamo una pausa Di un par di minuti Così ho il tempo di... ... ... ... ... ... ... perché voglio cambiare l'arma oh Dio mio ora ho visto il perro madre mia che abbiamo fatto Ale che abbiamo fatto ora abbiamo il disco lleno di unicorni di color rosa perriti piccoli è broma potete mettere lo che vogliai meno che più il più non deve essere fai sempre che in questo server sono entreranno molti jugatori che vogliono giocare non guardare perriti quindi si ti puoi dire le cose credo che ho fare credo che è stato Kayleigh ho mettere un room solo per le donne lo che vuoi sapere si hai molti room potremmo potremmo convertirlo in room in room della mujer dove potremmo ponere GIF i cosa si perché non chiedo che poi alguien dice si si che si 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 come questo sempre può mettere tipo facciamo una stanza ripeto una stanzata si è gratis non si è pagano mi manca mi manca sguati no la la minchia duca zo 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 aia ok così si 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 aspetta spieghiamo a Iona anche la persona che non lo sape quando llega un mensaje privato il discorso dove si vieno dove si vieno dove mirarlo perché a volte le persone enviano messaggi a l'altro sì, io ho tardato un po' a entender che ho avuto un po' di messaggi all'interno a la parte di andame perché se non ti fai perché stai perdito perché, a ver, è che non so come dire non è stato mal fatto il discorso è solo che se non stai o non magari te pones a analizzare con la mente un po' più abierta di lo che solemos conoscere è un po' differente è una directory sono tutti directory differenti sono su cartella è mi opinione, pertenece più al lato della informatica che al lato delle app come le conosciamo oggi in via è ma sia informatica che app bravissima e il Duca trionfa sei felice, Duca siamo ancora 17 ma come si vede che solo giochiamo in privata non giochiamo stesse livello che io ancora ma da un botto di tempo che siamo 17 Johanna, chiedermi un pochino dal discord ok, Laura 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 ciao Laura tschüss schön, che tu sei qui è un buon appetito nel discord later you write in discord and you know if you are here eh, Joel tranquillo Milo ti tocca Joel capita ogni volta ogni tanto PP che è? PP? no eso è RB sì, sì io anche io anche Caleb con tutto io ho scritto nel server di Splatoon nel nostro e nel altro e già ti dico che la notificazione è pa 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 mille io ho incendie solo le di alcuni siti in concreto o credo se non mi equivoco sì, claro no podemos enviar cada vez un mensaggio privato a todo il mondo che stiamo facendo online por eso sì che in alcuni casi è sutil no, mica stai dicendo di questo ah, vale ah, del altro claro sì, sì, sì nosotros se enviamo un mensaggio al minimo boh sì solo che hai server dove hai 500 o 1000 persone all'interiore e sono mille messaggi joanna milo no weekend perché usa più gente chiaro che logica prestante melo ma laura alla laura che significa può essere oh ma laura alla laurea o è laurea laurea che significa lente la laurea è quando prendi sì cosa lo so studi laurea laurea l'apostrofo laurea laurea la forza non è tipo laura che è intorno al corpo umano si dice aurea in italiano spiega il tuo gioco di parole laura come ho detto come ho detto io la laurea 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 scusa non lo so sai se si dice laura o laurea laurea mi sa che è laura la aura allora sapete cosa mi stavano impollando il cerebro no è laurea è vero te lo giuro o in tua settimana sono sempre pronto hai sbagliato come puoi avere sbagliato vale io non abbia le ido e intonse cico che siamo noi abbiamo mastarde che dici tu Caleb mi vuoi connetare ma starde laura adesso certo che ce l'ha io chiedo disco lo buono lo buono è che disco già lo tienes lo tiene già sta buono ti ha sparati ora 9 sta via vale intonse che siamo quanti scontriamo a stare 9 vale però continuiamo con spato mi hai già cagato il cazzo con worms tu non volevi lo cancello ogni giorno mi hai detto 50.000 volte adesso che ce l'hai giocato tre volte ok allora giochiamo a worms online no giochiamo splatoon e poi dopo giochiamo adesso adesso giochiamo a worms adesso descansiamo a las 9 facciamo un stream 40 minuti dopo dai descansiamo media ora e poi mettiamo media ora worms ok ok chicos noi descansiamo una media ora e poi faremo un altro directo con worms e alle 9 tutto regressa con la normalità con splatoon 2 spiegano in inglese in inglese ok people we are going to close this stream for now we're gonna have a break more or less in half an hour or something like this we we will do another stream of worms worms and then in about one hour and a half we'll play our classical splatoon 2 ok jetzt auch noch für euch leute für joel schubi laura ist schon weg und ich weiß nicht ob moment ob edgar noch hier ist und es war noch jemand hier julian glaube ich auch noch leute wir schließen jetzt stream ich glaube so in der weile halbe stunde oder so oder stunde machen wir ein neues vielleicht warms oder wahrscheinlich warms die erste halbe stunde und dann auch dann splatoon ich sage in italian ich bin natürlich so die bom ich liebe come stai fratellino mio eschino così passano ora non so cosa chi è questo qua was chi è non so scrivi subito subscribe un pronunciabile nome spielstu deutsch deutsch su schliessen come in una halbe stunde aber wieder in un'andere spiel ok il primo russo no è russo no tedesco tedesco che russo ok super spiegati tanto l'ha sentito no ragazzi noi chiudiamo e per le 8 e un quarto meno di un'ora mezz'ora già siamo qua di nuovo non so se è stata buona idea a fare così cosa ritornare a mezz'ora non so se quasi preferisco giocare direttamente a splatoon no no è chiudi calma è sì mezz'ora poi non li voglio far aspettare mi sape sai no che gente in tu partito sperando da dopo sì ma mira educa sono qua che stanno parlando guarda e lo so ma questo è da tre minuti fa va bene è uguale stiamo parlando stiamo organizzando sei da fastidio da fastidio sono te oh va bene mamma cico hasta luego Jessica se me fada mamma ciao